Novità durante l'ultimo Consiglio Comunale Difenza. Fra le fila del Partito Democratico, Sara Savorani è subentrata a Roberto Matatia, dimessosi da consigliere comunale. Mentre, grazie ad un recente cambiamento nel regolamento dell'Assemblea, Alessio Grillini, dimessosi da Italia Viva, è riuscito a fondare il gruppo Alessio Grillini in consiglio comunale di cui ovviamente è diventato capogruppo. Senza le modifiche, invece, Grillini avrebbe dovuto insediarsi in un più anonimo gruppo misto. Le sorprese tuttavia non sono finite poiché, raggiunta l'Assemblea, Grillini ha deciso di sedersi fra i banchi dell'opposizione e non insieme alla maggioranza di cui ancora fa parte. Un gesto che ha spiazzato diversi membri del centro-sinistra, accolto da un sorriso tirato da alcuni componenti della Giunta. Grillini si è seduto a fianco di Massimo Zoli del gruppo civico Faintino a pochi passi da Stefano Bertozzi, capogruppo di Fratelli d'Italia. Ai microfoni nessuno ha commentato la scelta anche perché il consiglio comunale era ormai iniziato. Tuttavia, dopo la discussione di alcune interrogazioni, a Grillini è stato detto di tornare fra i banchi della maggioranza per rispetto sembrerebbe sempre delle regole. Il gesto di abbandonare i banchi della maggioranza potrebbe essere interpretato comunque in diversi modi. Grillini, ai nostri microfoni, ha assicurato di non voler uscire per il momento dalla maggioranza. Attende però un confronto col sindaco Massimo Isola per capire quale linea politica vorrà tenere il Partito Democratico Faintino, se orientarsi al centro o perseguire scelte più radicate nella sinistra. Grillini non sarebbe d'accordo con questa ultima ipotesi e proprio per questo motivo infatti si è dimesso da Italia Viva. La scena esibita in consiglio comunale potrebbe quindi essere una sorta di monito lanciato alla maggioranza e al sindaco. Un ultimatum, sono stati diversi i punti di frizione fra il consigliere e il resto della compagine in questi anni, oppure una semplice richiesta di chiarimento. La scelta di sedersi accanto al progetto civico Faintino non pare comunque così casuale. Come Grillini, Zoli, Cavine e Penazzi sono tre battitori liberi che in questi anni sembrano aver dato più importanza alla sostanza delle proposte che alla sfera di provenienza. Fra i quattro consiglieri potrebbe quindi intavolarsi una sorta di alleanza. Quanto successo potrebbe però anche non far altro che riflettere quanto avverrà in futuro se l'incontro chiarificatore con il centro-sinistra dovesse finire negativamente, con Grillini pronto a passare all'opposizione o alla prossima tornata elettorale sostenere un candidato di centro-destra.